Si allontana da casa famiglia, ritrovata a Campopasso, si sono vissuti momenti di apprezzione per una donna di Agnone scomparsa da Villa Canale e stata ritrovata nel capoluogo. Elezioni politiche, arrivano i big in Molise. Mercoledì a Termoli, Giorgia Meluni ripresenterà i candidati di Fratelli d'Italia. Intanto si attende la prima riunione del Consiglio regionale sui temi dell'energia e del caro Bollette. Ricatti sessuali sul web minorenni nel mirino. Il fenomeno in aumento anche in Molise coinvolge ragazzi di età compressa tra i 15. 17 anni. Oltre 100 le segnalazioni presentate alla Polizia Postale. Da quest'ora i giovani denunciate. Incendio alla Molisana, allarme rientrato. È stata bloccata per alcune ore la produzione all'interno del pastificio a causa delle fiamme divampate nell'area produttiva. E in mattinata a Trivento si sono vissuti addimi di paura per un incendio in una casa nel centro storico. Serie D e calcio regionale weekend di Coppa. Il vasto Girardi ospita la Vastese per il primo turno. Ancora gara secca. Le squadre di eccellenza e promozione aprono la stagione 2022-2023. Buongiorno e benvenuti alla seconda edizione del telegiornale. Dunque lo avete sentito nei titoli. Ritrovata a Campobasso la donna di 47 anni che si era allontanata ieri sera dalla casa famiglia di Villa Canale nei pressi di Agnone. I dettagli nel servizio di Enrico De Simone. È stata ritrovata a Campobasso la donna di 47 anni che ieri sera si era allontanata dalla casa famiglia di Villa Canale nell'agro di Agnone. Ad allertare le forze dell'ordine sono stati responsabili della struttura preoccupati per il mancato rientro della loro ospite. Subito dopo la chiamata i carabinieri e i vigili del fuoco di Agnone si erano messi alla ricerca della 47enne con l'ausilio di un elicottero per facilitare le operazioni. L'ultimo avvistamento registrato della donna era stato proprio nella serata di ieri in un bar del vicino comune di Belmonte del Sagno in cui avrebbe preso una consumazione prima di comunicare ai passanti la sua volontà di dirigersi a Isernia. Ancora ignote le modalità con le quali la donna è riuscita a spostarsi fino a Campobasso. Come ignote sono le motivazioni che l'hanno spinta a fuggire dalla casa famiglia. Sulla vicenda proseguono le indagini delle forze dell'ordine. Consiglio regionale ancora fermo. I lavori dovrebbero riprendere ai primi di settembre con una priorità in agenda. Caro Bollette e caro Vita. Due temi per i quali sarà necessario una seduta monotematica. Il tema energia, attuale anche per l'ipotesi, idrogeno, valle in basso, Molise. Ce ne parla Pasquale Di Bello. C'è un tema, quello energetico, che più di altri non può più essere disatteso. Per quello che riguarda la programmazione regionale, caro Bollette e caro Vita, sono ormai un dramma conclamato per famiglie e imprese destinate a fare i conti con l'effetto guerra. Pensare al prossimo autunno-inverno significa trovare immediatamente delle soluzioni che possano alleggerire il peso sui soggetti e i comparti più fragili. Su questo tema il Consiglio si è già espresso con una serie di mozioni bipartisan volte ad individuare i sistemi di sostegno a famiglie e settori colpiti, ma concretamente nulla è stato fatto. Depositata in Consiglio anche una proposta di legge a firma della capogruppo PD, Michela Fanelli, volta a sostenere i maggioni oneri subiti dai comuni dell'Altissimo Molise, dove l'inverno arriva prima e se ne va dopo di altre aree della regione. Su questo la capogruppo del PD chiederà un consiglio monotematico. Al tema energia si collega anche l'ipotesi elaborata dal Consorzio Industriale della Valle del Biferno, quella della realizzazione di una Idrogeno Valley, un progetto che punta proprio alla trasformazione dell'idrogeno in energia e l'energia in servizi per le imprese, un progetto ambizioso avanzato anche da imprese private e che si collega agli interventi legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Un tema quello dello sviluppo energetico che richiede un intervento immediato di programmazione regionale e che non può più attendere né le elezioni né gli altri minuetti della politica. Verosimilmente la conferenza dei capigruppo verrà riunita dal presidente Micone ai primi di settembre e nell'arco di una decina di giorni dovrebbe esserci la prima riunione dell'assise. L'auspicio è che vi sia un ordine del giorno concreto e non la consueta lenzuolata di mozioni e interrogazioni. Riprenderà nel pomeriggio la produzione nello stabilimento la molisana di Campobasso interessato durante la notte da un principio di incendio nell'area produttiva. I vigili del fuoco, allertati dai titolari, sono intervenuti con due mezzi. Non ci sono stati feriti ma le fiamme, che secondo le prime informazioni sembrano causate da un cortocircuito, hanno danneggiato alcuni componenti di un macchinario. La produzione nello storico pastificio molisano è stata fermata per alcune ore per consentire la bonifica e il ripristino delle condizioni di sicurezza. E in mattinata si sono vissuti momenti di paura a Trivento per l'incendio di un'abitazione nel centro storico. Le fiamme sarebbero partite da una lavatrice all'interno di un edificio che si trova nella parte più alta del paese, non raggiungibile da mezzi pesanti. Particolarmente difficoltose dunque le operazioni dei vigili del fuoco di Campobasso per spegnere le fiamme e fare la successiva bonifica. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. I danni sono ingenti. Ed entra nel vivo la campagna elettorale. Partiti e movimenti si presentano agli elettori e sono in arrivo in Molise anche i protagonisti nazionali. Mercoledì prossimo a Termoli sarà la volta di Giorgia Meloni. a seguire gli altri leader. Sentiamo ancora Di Bello. Si accorciano i tempi che ci separano dalla data delle elezioni e si infittisce l'agenda elettorale. Segretari di partito, leader nazionali, ministri e candidati sono in arrivo in Molise e in procinto di battere le strade della regione. Lunedì prossimo 29 agosto, doppio appuntamento, alle 11 al Centrum Palace di Campobasso, sarà Forza Italia a presentare i propri candidati. Sarà presente anche Claudio Lotito, candidato della coalizione di centrodestra al maggioritario Senato in quota al partito berlusconiano. Annunciata anche la presenza di Lorenzo Cesa, la cui candidatura speculare ma in quota a noi moderati è piazzata al maggioritario Camera. Presenti chiaramente tutti gli altri candidati di Forza Italia, a partire dall'uscente Anna Elsa Tartaglione al proporzionale Camera, seguita al secondo posto dal consigliere regionale Armandino Degidio. Al Senato proporzionale invece il candidato è l'assessore regionale Nicola Cavaliere. Sempre lunedì ma alle 17.30 al Grand Hotel Rinascimento, assemblea pubblica dei partiti della coalizione di centrosinistra, Partito Democratico, Italia Democratica e Progressista, Alleanza Verdi e Sinistra, Più Europa e Impegno Civico. L'assemblea aperta ad associazioni, sindacati, movimenti civici e cittadini è stata convocata per illustrare il programma della coalizione e raccogliere spunti e proposte. Mercoledì a Termoli invece l'arrivo del primo tra i leader nazionali, appuntamento per Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia alle ore 12 presso lo stabilimento Balneare La Lampara. Presenti i candidati del partito, Costanzo Della Porta al proporzionale Senato, mentre per il proporzionale Camera la capolista Elisabetta Lancellotta e Luciano Paduano. In arrivo in Molise nella seconda settimana di settembre il leader della Lega Matteo Salvini, che sarà preceduto dalla visita in Regione del Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti. Annunciati anche gli arrivi di Enrico Letta del Partito Democratico, di Nicola Fratoianni dell'Alleanza Verdi-Sinistra italiana. In forse invece il capo politico del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. Per tutti questi ultimi le date di presentazione del programma e delle candidature sono ancora da definire nel dettaglio. La Corte di Cassazione ha riammesso la lista Noi Moderati, esclusa in Molise per un errore sanabile legato alla presentazione dei candidati. La formazione centrista sarà regolarmente presente alle prossime elezioni politiche del 25 settembre. Rientrano quindi le candidature al proporzionale Camera dell'assessore Filomena Calenda, capolista, e del secondo in lista Vittorio Colarelli. E alla lista degli appuntamenti in programma nei prossimi giorni va aggiunta la presentazione della candidatura di Giuseppe Cecere, candidato al proporzionale Senato per il centrosinistra in quota Partito Democratico. La presentazione avverrà lunedì prossimo alle 10.30 all'ingresso della Facoltà di Medicina presso l'ospedale Cardarelli di Campobasso. E veniamo adesso all'andamento della pandemia, con l'ultimo bollettino ASREM che riporta 150 nuovi contagi su 739 tamponi processati, con il tasso di positività al 20%. Purtroppo c'è da segnalare un nuovo decesso. La vittima è un uomo di 77 anni di termoli che era in terapia intensiva. I pazienti ricoverati per Covid al Cardarelli sono 19, mentre le vittime dall'inizio della pandemia salgono a 669. Ci sono tuttavia anche 154 guariti che fanno scendere a quota 4533 il numero degli attualmente positivi in Molise. Il fenomeno del ricatto sessuale realizzato attraverso il web sta coinvolgendo anche in Molise un numero crescente di adolescenti. L'allarme della questura di Campobasso, sui dati della Polizia Postale, alla quale negli ultimi mesi sono arrivate oltre 100 segnalazioni. Ce ne parla in questo servizio Anna Maria Di Matteo. Si chiama sex torsion e il significato letterale è il ricatto sessuale realizzato attraverso il web. Un fenomeno che sta prendendo piede anche in Molise e che coinvolge un numero sempre crescente di adolescenti. A lanciare l'allarme la questura di Campobasso sui dati forniti dalla Polizia Postale, alla quale negli ultimi mesi sono arrivate oltre 100 segnalazioni che coinvolgono minori di età comprese tra 15 e 17 anni, ma ci sono casi che riguardano anche ragazzi più piccoli. Si tratta di un fenomeno di solito rivolto al mondo adulto, con un'enorme potenzialità di pericolosità perché oggi colpisce vittime minorenni tanto fragili quanto inesperte. Tutto inizia con qualche chat su profili social di ragazzi e ragazze, gentile avvenenti, apprezzamenti e like per le foto pubblicate. Si passa poi alle video chat e le richieste si fanno man mano più spinte. Nei giorni seguenti il martellamento online include anche la richiesta di somme di denaro, anche esigue, con la minaccia di diffondere sulla rete a parenti e amici le foto in caso di mancato pagamento. Le vittime, intrappolate tra la vergogna e la paura che le immagini possono essere viste dai loro contatti, tendono a non confidarsi con nessuno, in particolare con i genitori. Per questo motivo il fenomeno è sottostimato. I consigli della Polizia Postale sono quelli di non cedere mai al ricatto pagando le somme richieste perché le richieste di denaro comunque continueranno. Non bisogna avergognarsi di aver condiviso immagini intime con sconosciuti, non cancellare i messaggi scambiati con gli estorsori, non chiudere i profili social su cui si viene contattati, ma fare gli screenshot delle conversazioni e delle minacce del profilo dell'estorsore, fare una segnalazione sul portale del commissariato di Polizia di Stato per chiedere aiuto, parlarne con i genitori o con un adulto di fiducia e chi ha più di 14 anni può sporgere una denuncia anche in modo autonomo in qualsiasi ufficio di Polizia. Se ai propri figli capita qualcosa di simile, i genitori non devono giudicare responsabile il loro comportamento, ma devono invece valutare che la vergogna e il senso di panico che possono provare li mettono a rischio di compiere anche gesti inconsulti, ascoltare quanto i figli raccontano, acquisire con calma tutte le informazioni e rassicurarli, procurarsi tutto il materiale, non cancellare le immagini e i video e chiedere subito aiuto alla Polizia. Il prezzo del gas ha raggiunto i massimi storici e per i cittadini di Sernia si aggiunge anche l'aumento dell'acqua con le bollette del 2022 già inviate ai residenti. Le famiglie sono sempre più in difficoltà. Il prezzo del gas ha superato per la prima volta i 300 euro al megawattora, una cifra molto alta e di circa 10 volte superiore allo scorso anno. Cifre così alte preoccupano le famiglie che con l'arrivo dell'inverno dovranno fare molti più sacrifici per far tornare i conti a fine mese. In più per gli Sernini si aggiunge anche l'aumento dell'acqua già inviato ai cittadini con le bollette del 2022. Certo che almeno io sono arrabbiata. Ieri arrivò un'altra bolletta dell'acqua a mio figlio, all'officina meccanica. Il contatore ha preso il numero del contatore a giugno con 39 metri cubi e adesso ancora a misura 39 metri cubi e sulla bolletta ce ne stanno 41. Cioè non è una cosa fatta bene. Le spese sono aumentate tantissimo, speriamo si trovi un modo per alleggerirci un po'. L'aspettativa secondo me è che il governo sia nazionale che europeo faccia qualcosa per... Si parla di tetto del gas per esempio, tetto al prezzo del gas. Penso che sia questa la soluzione. Basta avere degli accorgimenti sia negli infissi... Sì gli aumenti ci sono andati, ma io non vedo questi aumenti così esagerati. Aumenti ingiustificati per i cittadini di Isernia che lamentano un costo della vita ancora più alto a fronte di stipendi sempre uguali. Bisognerebbe prendere di più, bisogna aiutare un po' sta gente che non ha come pagare. Se hai una posizione economica discreta puoi riuscire a gestire il tutto, altrimenti mi sembra quasi impossibile. Che devo dire? Non ho parole. Contributi per gli operatori turistici. Il Comune di Isernia ha predisposto il materiale e l'assistenza tecnica per aiutare gli interessati ad ottenere gli aiuti dal governo. Sono previsti finanziamenti a fondo perduto fino al 100%. Palazzo San Francesco è pronto ad assistere gli interessati. Ce ne parla Enzo Di Gaetano. Il Ministero del Turismo sta finanziando soggetti privati profit e non profit per la realizzazione di progetti finalizzati alla promozione dell'offerta turistica delle aree montane e anche Isernia ricade in tali aree. Sul sito web del Ministero infatti è stato pubblicato l'avviso riguardante le manifestazioni di interesse alla presentazione di proposte di intervento per il rilancio del turismo montano italiano attraverso adeguamenti infrastrutturali, pianificazione e promozione di prodotti turistici in ottica di sostenibilità. Ogni progetto per la montagna, che sarà messo a finanziamento, potrà ottenere fino a 2 milioni di euro. L'importo viene concesso quale contributo a fondo perduto nella misura massima del 100% del totale dei costi ammissibili inclusivi di IVA qualora non recuperabile dal beneficiario per le spese elegibili a valere sull'FSC 2014-2020. La domanda di finanziamento completa della proposta e dei documenti richiesti e delle dichiarazioni deve essere presentata entro le 13 del prossimo 30 settembre utilizzando esclusivamente la piattaforma informatica tramite SPID. L'assessorato al turismo del comune di Isernia è disponibile per un'eventuale assistenza ai soggetti privati, profit o non profit, che siano interessati a questo tipo di avviso. Adesso una notizia aggiunta pochi secondi fa in redazione. Una violenta bomba d'acqua sta colpendo Agnone e Poggio Sarnita. Ci arrivano adesso le immagini che dovremmo vedere registrate pochi minuti fa. La forte pioggia ha ridotto la visibilità agli automobilisti, ecco dunque le immagini. In strada molto fango e detriti. Secondo le previsioni la scarica temporalesca proseguirà per tutto il pomeriggio. Gli aggiornamenti chiaramente nel corso dell'edizione delle 19 e 30. Andiamo avanti. La giunta regionale ha approvato il calendario venatorio per la stagione 2022-2023. L'assessorato alla caccia e alla pesca rende noto che è possibile ritirare i nuovi tesserini nelle varie strutture a Campobasso, I Serni, a Termoli, Montenero di Bisaccia, Larino e Trivento. Al Film Festival di Noto in Sicilia grande successo per il cortometraggio Gocce girato in Molise. A Noemi Bordi il premio di migliore attrice protagonista, il servizio di Andrea Nasillo. Il cortometraggio di Valenza Sociale Gocce prodotto con la regia di Simone D'Angelo da Kairos Cooperativa Sociale Termoli, grazie al bando regionale Turismo e Cultura 2020 della regione Molise, di scena anche in Sicilia ha noto tra i finalisti del Film Festival. Noemi Bordi la protagonista del corto migliore attrice per la sua meravigliosa interpretazione di Eva, il suo monologo con l'olivo Fausto ha toccato l'anima. Volevo ringraziare i noto International Film Festival per questo premio perché io ho amato Eva fin dalla prima lettura e sapere che è arrivata ai vostri cuori è per me una gioia immensa. Naturalmente grazie a Simone D'Angelo e al regista per aver visto in me questa donna così forte e complessa e spero vivamente che Gocce possa essere sempre di più un esempio per tutte le donne. Noemi Bordi si è calata nel personaggio. Gocce è il perfetto connubio tra il fare sociale della cooperativa Kairos per lo sviluppo sostenibile attraverso il mondo olivicolo e la promozione del territorio con i suggestivi paesaggi molisani a fare da sfondo. Il corto è nato da un progetto che ha visto tra gli altri partner anche la collaborazione dell'Associazione Nazionale delle Città dell'Olio. 18 minuti di film in cui la giovane protagonista Eva, vittima di violenza, fa un viaggio introspettivo alla scoperta delle proprie origini. Sono gli uliveti del lago di Guardia Alfiera e il cibo legato ai suoi ricordi di infanzia a costituire un punto di svolta nel suo percorso trasformativo. La bravura di Noemi Bordi, insomma, per noi è stata sempre una garanzia sin dall'inizio. Noemi è riuscita a incarnare quello che io ritengo sia proprio l'archetipo dell'anima perché Eva nel cortometraggio Gocce non è soltanto la donna vittima di violenza, è anche l'anima nell'uomo, è anche la nostra parte creativa, la dimensione della psiche anche nell'uomo che riesce a riconnettersi con le sue origini, riesce a trovare la dimensione della creatività della vita e che permette di curare le ferite non solo proprie ma anche quelle del genere umano. Successi su successi, per Gocce i suoi protagonisti è solo l'inizio. Io quando ho immaginato Eva ho immaginato Noemi Bordi. La cosa che mi fa molto piacere è che il personaggio di Eva e quindi di conseguenza Noemi sta avendo molto successo nei festival e le candidature che stiamo ottenendo nei vari festival sono sempre come migliore attrice o migliore regia. Quindi questo sta a significare che il personaggio di Eva porta un messaggio importante e viene riconosciuto da chi guarda questo prodotto, appunto questo ruolo di ambasciatrice che Eva porta all'interno di Gocce. Attesa a Boiano per la Notte Gialla, evento di punta e conclusivo di una serie di iniziative curate dall'Associazione Vivi Boiano con il supporto del bando Turismo e Cultura. Ce ne parla in questo servizio Giuseppe Carrera. Otto eventi in dieci giorni coinvolgendo soprattutto il territorio da Civita Superiore a Piazza Roma e tanti talenti artisti locali, scuole di danza, gruppi musicali. L'agosto boianese attraverso le iniziative curate dall'Associazione Vivi Boiano ha ritrovato un clima di festa, di normalità dopo la pandemia e anche di grande entusiasmo. Migliaia di persone che hanno raggiunto Boiano in queste sere con il Clui in occasione del concerto di Francesco Renga. Questa sera intanto l'atteso gran finale con la Notte Gialla, ma la soddisfazione degli organizzatori è già palpabile. Dopo due anni di pandemia, di chiusi in casa, di tante nostalgie degli eventi precedenti, giustamente ritornare a una vita normale, perché diciamo così tra parentesi, speriamo che si ritorni a una vita normale è importante. Era importante ripartire con la gente del posto, dalle valore anche ai ragazzi che si trovano qui a Boiano. Gli eventi organizzati dall'Associazione Vivi Boiano sono stati realizzati con il patrocinio del Comune di Boiano e il supporto del Bando Turismo e Cultura della Regione Morise. Remo Perrella traccia un bilancio nella doppia veste di consigliere comunale e socioattivo di Vivi Boiano, sottolineando il valore di una condivisione di intenti che ha coinvolto tante associazioni nel corso dell'intera estate. Ricopro questo doppio ruolo, ma in questa fase soprattutto con il collaboratore attivo di Vivi Boiano che ha avuto il coraggio di riprendere in mano una situazione dopo la pandemia. È stato veramente un gran coraggio, è stato fatto un lavoro a testa bassa, in silenzio, lungo, certosino, che ha portato a un risultato del quale siamo assolutamente soddisfatti e speriamo davvero che ne possa beneficiare tutta la città. Il cartellone è stato ricchissimo ed è stato davvero bello poterlo condividere con tantissime associazioni che hanno voluto mettere la loro firma sotto eventi che si sono realizzati e che si realizzeranno nel mese di agosto. Sono davvero tante e non le nomino tutte perché rischio di dimenticarne qualcuno, ma davvero è stato un cartellone scritto a venti mani, forse non di più. Ed è stato davvero bello poterlo condividere con tutte le associazioni che hanno avuto la voglia, la volontà, la forza e il coraggio di rimettersi in gioco tutti insieme. Al via la stagione concertistica Termoli Musica, giunta alla diciottesima edizione. Diciotto concerti promossi dall'associazione Onde Serene. Tra i sostenitori il Ministero della Cultura, la Regione Molise e il Comune di Termoli. Andrea Nasillo 18 concerti musicisti di fama anche internazionale. Un festival di spessore giunto la sua diciottesima stagione. Termoli Musica 2022 parte già da domani. Un'iniziativa sostenuta dal Ministero della Cultura, promossa dall'associazione Onde Serene. Tra i progetti del Fondo di Turismo e Cultura della Regione Molise è patrocinata dal Comune di Termoli e dall'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo. Rilevante il sostegno all'evento anche da associazioni locali e nazionali. Questo è un territorio, ha detto il direttore artistico Giuseppe Nese, in cui sono nati e cresciuti i musicisti che oggi lavorano in tutto il mondo. Saranno circa 18 concerti a Zatermoli e uno a Guglionesi. Poi ci saranno tre concerti didattici perché c'è sempre un'attenzione particolare all'educational e quindi faremo dei concerti didattici, delle masterclass. Abbiamo l'apertura il 28 con Davide Mariano, lo stesso un grande organista, morisano, giovane, che sta facendo strada nel mondo, vive avviene ormai da dieci anni e apriremo la stagione appunto al Duomo di Termoli per dare anche importanza a questo luogo di culto e a questa parte del patrimonio artistico della città. Diversi gli eventi proposti a Termoli in questa calda stagione estiva e ne è soddisfatto il sindaco Francesco Roberti. Bisogna valorizzare tutto quello che abbiamo con il conservatorio Perosi, ha detto il primo cittadino, siamo al lavoro per aprire anche qui. Il progetto potrà realizzarsi nell'arco di qualche anno. Termoli, ha detto l'assessore regionale Vincenzo Cotugno durante la presentazione, è locomotore del turismo molisano. I risultati e i numeri di questi anni ci stanno dando ragione, sono numeri che crescono. Bisogna solo alzare l'asticella dell'accoglienza. Il plauso di Cotugno ha l'azione sul territorio attraverso la valorizzazione della cultura tramite gli artisti locali. E' entusiasta anche l'assessore comunale Michele Barile. L'unica stagione concertistica del Basso Molise con musica di grande qualità, con delle collaborazioni a livello nazionale ed internazionale davvero molto importanti che porteranno comunque appassionati della musica classica qui nel territorio di Termoli e nel Basso Molise. Un evento, quindi una manifestazione che racchiude al suo interno veramente spettacoli di grande importanza. Giornata clou oggi a Montagano per la festa del pomodoro. Al termine di una settimana di iniziative, questo pomeriggio, dalle 17, il convegno dedicato agli aspetti agronomici, economici e nutrizionali legati al pomodoro di Montagano. A seguire la sagra del pomodoro con il contributo attivo degli agri-chef di Molise e Abruzzo, in quello che viene definito dagli organizzatori il confronto più gustoso dell'estate. Le degustazioni proseguiranno per tutta la serata con la musica della band Sonata Balorda. Bene, con questa notizia termina la seconda edizione del TG. Adesso ci sono le previsioni del tempo, poi la pagina sportiva. Grazie per essere stati con noi, vi auguro un buon fine settimana. Aderci.